Studio numero 2 dall'opera 60 di Matteo Carcassi sequenza di arpeggi su posizione fissa con un arpeggio progressivo sulle corde seguito da una successione di note ribattute con medio indice e medio anulare pollice indice medio anulare, medio indice medio anulare alla seconda quartina la prima posizione è quella di La e Do naturali poi scorro Si Re Sol Dies poi mezzo parrè al quinto tasto settima posizione con Mi Sol Dies Si fino ad adesso il basso è stato sempre La e poi la posizione si modifica Mi Sol Dies Si diventa Mi La Do scorro indietro Re Fa naturale Si naturale con il terzo dito che da Mi si porta a Le siamo in quinta posizione poi quarta posizione Barre con i due su Mi me ne torno in prima posizione con Mi Sol Dies Si Si e Mi poi Re Sol Dies Si Fa Do La Do Mi Si Si Re Sol Dies Si a questo punto invece di usare il mezzo Barre in quinta dalla posizione in cui sto c'è uno scorrimento del quarto e metto tutte e tre le dita al quinto tasto Do Mi e La torno in seconda posizione in prima posizione con La, Si e Fa con La, Si e Fa Mi Sol Dies Si Re Mi e l'ultima di nuovo Barre al quinto tasto finiamo con un La sulla quarta corda ok? Lo ripeto tutto di seguito grazie a tutti 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 Grazie a tutti.